il nostro viaggio in centro america è finito dopo due anni e mezzo e 55 mila chilometri dall'alaska panama siamo pronti a separarci dal nostro van per ritrovarlo in sud america la spedizione è necessaria per l'assenza di una strada tra panama e la colombia dopo pochi giorni vogliamo a cartagena in colombia e aspettiamo il nostro van mangiamo di tutto e veniamo travolti dall'accoglienza dei colombiani ignari di quello che stava succedendo su quella nave che trasportava la nostra casa su ruote siamo serena e carlo e lui è nirvan un furgone camperizzato da noi in italia e spedito in canada l'obiettivo è quello di percorrere la panamericana dall'alaska all'argentina buongiorno oggi è arrivato finalmente il grande momento perché abbiamo ricevuto la notizia dal porto di aprire il container finalmente il container è arrivato ci ha messo circa tre giorni tra le varie cose e poi altri tre giorni ci sono voluti per organizzare l'appuntamento al porto qui di cartagena ovviamente siamo con agenti di spedizione perché praticamente il processo di spedizione non si può fare da soli bisogna per forza affidarsi ad un agente e oggi andremo con i nostri amici per effettuare il primo passaggio ovvero aprire il container togliere quel sigillo che avevamo messo un paio di settimane fa e cominciare le pratiche di sdoganamento adesso sto correndo perché devo prendere un taxi assolutamente alla società portuaria sono quasi arrivato al porto serena non potrà venire perché soltanto una persona può avere la accesso al porto infatti abbiamo dovuto fare mille autorizzazioni adesso sono quasi arrivato vedo già le montagne di container uno di questi c'è nirvan e gli altri due mezzi quindi non vedo l'ora veramente di aprirlo con gli altri ragazzi è un giorno veramente speciale questo è questo si è la portuaria? questa è questo ah si ingresa da qui adios grazie sono arrivato al porto di cartagena mi devo cambiare perché non si può entrare con la maglietta a maniche corte siamo stiamo entrando nel porto adesso ci siamo vestiti da operai specializzati adesso german ci sta accompagnando al nostro container lui è la gente che si preoccuperà di tutte le operazioni che dovremmo fare per sdoganare questo container quindi pantaloni lunghi maglia con il cialeco e si va questo è il porto di cartagena questa è la super crew di oggi cominciano a tremare le gambe non vedo l'ora di vedere il container che ci sta aspettando che figata ragazzi che figata nirvan è arrivato in colombia vestito così mi sento proprio come un ingegnere che deve andare a fare un sopralluogo ecco tutti i container i nostri amici sono super pronti ad aprire il container non potete capire la sensazione che stiamo provando per fortuna c'è lui che ci aiuterà pile pile di container e lì c'è la gru che lo sta sollevando bellissimo anche questo possiamo dire che è un piccolo luna park e ovviamente anche le casse sono fatte di container qui intanto stiamo assistendo a tutte le operazioni di porto le gru sollevano questi container e li mettono in delle pile alte 5 o 6 piani anche ci sono container refrigerati e container non refrigerati fa caldissimo e stare con i pantaloni lunghi è una sofferenza ci saranno almeno 35 gradi ecco probabilmente il container dovrebbe essere quello là il nostro amico ha preso già la super tenaglia la trincia sigillo alla nostra amica Ines petterà il compito di aprire il container andiamo verso questo punto dove si nasconderà Nirvan e il container non lo so il nostro container è quello lì ragazzi qui dentro ci sono i veicoli fantastico e non vedo l'ora di aprirlo il sigillo è lì come stai Nirvan? allora qui c'è la moto qui c'è la macchina dei nostri amici e qua dovrebbe esserci Nirvan qua mi senti? è un po' cringe questa cosa qua mi trema la mano eccoci al momento dell'apertura la rottura del sigillo è avvenuta adesso apriamo il container attenzione è da Colom, Panamà oh eccoli qua fantastico in questo momento di gioia il personale del porto ci informa che qualcosa è andato storto la trinca, questo, del carro viene suelta dice che è luce ah dice che è luce in questo momento non si sta facendo responsabile per alcun golpe che tenga il carro in questo momento si, 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 si no, no a me mi... è parlando di responsabilità del porto perché questa cosa non è proprio collegata in questo modo a me mi piace essere chiaro in ogni punto in questo momento i golpi che tenga il carro io lo reviso ok in questo momento non sono responsabilità del porto il problema è che... è un problema il problema è avevamo un grosso problema le cinghe che tenevano salda l'auto di nostri amici avevano perso la loro forza questo significava che si erano rotte compromettendo la stabilità dei veicoli che pur con i freni e le marce inserite si sarebbero potuti muovere inizialmente non vedevo nulla dentro era tutto buio pensavo fosse andato tutto bene e non mi stavo preoccupando perché il personale ci stava dicendo questo i veicoli sembravano a posto e la moto di martin era perfetta secondo noi non si era mosso nulla così in attesa di entrare continuavamo a parlarne quindi la moto è arrivata bene la macchina dei ragazzi ha praticamente una cinghia un po' un po' tirata male però vabbè è tutto a posto ma c'era qualcosa che non andava e più passava il tempo più i dubbi aumentavano sono all'interno del container purtroppo è successo quello che non speravamo le cinghie che tenevano Nirvan attaccate al container hanno ceduto la macchina gialla dei nostri amici ha urtato sul nostro van purtroppo causando tantissimi danni sul di dietro adesso che ci sarà più luce li vedremo meglio e questo è il danno purtroppo il paraurti è andato a finire dentro il van guardate è veramente il peggio che potevamo sperare si è rovinato tutto è andato a sbattere veramente in questo momento siamo abbastanza distrutti moralmente adesso vediamo un po' davanti come sarà la situazione è tutto distrutto è tutto distrutto adesso entro nel van perché lo muoviamo cerchiamo di vedere i danni davanti che sono quelli che ci preoccupano di più purtroppo adesso è tutto rotto devo entrare adesso salgo sul tetto e poi entrerò dalla finestra perché non c'è modo guidando ok sono dentro il van e adesso metto la chiave sono molto nervoso oggi molto nervoso dale spingiamo un po' il van per vedere che è successo adesso ci collega al nero della batteria già si è connettato non arranca ah la batteria prova a connettarla a me ora e o travesse intenta o travesse ok il furgone si è acceso adesso cerchiamo di uscire in questi secondi temevo davvero il peggio la rottura della parte davanti per compressione sul container non stavo capendo più nulla ma per fortuna arriva una buona notizia è arrivato il momento di vedere i danni davanti fantastico il davanti era salvo e tutto funzionava correttamente e i nervi si erano rilassati sarebbe potuto andare molto ma molto peggio in realtà pegò un pochino però è buono non passa nada il problema è sti attrasso ecco Nirvan massacrato dal viaggio del container adesso lo porteremo a fare nelle cure io già mi sono un po' tranquillizzato perché la parte davanti non ha nessun tipo di danno adesso lo portano lì e faremo tutti i controlli doganali possibili ok la sintesi qual è? che noi abbiamo spedito da Panama alla Colombo il nostro van con il container e purtroppo chi era abilitato a rendere sicuro il nostro van ha usato dei materiali non idonei infatti come potete vedere le cinghie sono vecchie di scarsa qualità e il gancio si è rotto praticamente quindi il van ha cominciato a oscillare ed è finito praticamente sulla parte davanti della macchina dei nostri amici il davanti per fortuna è salvo il prossimo passo adesso sarà sicuramente ripararlo ma prima dobbiamo completare tutti i documenti doganali per poi finire tutti i procedimenti burocratici qui al porto di Cartagena ecco come si presenta il van in questo momento vabbè adesso ripareremo questo danno peccato peccato comunque caro Nirvan ben arrivato in Colombia è arrivato il momento di andare adesso usciamo dal porto e continuiamo le pratiche questa è la parte che è urtato dei nostri amici contro Nirvan si sono baciati praticamente è la moto di Martin che è spettacolare grande Martin è stata una mattinata abbastanza dura oggi al porto sinceramente ero davvero felice di aprire il container e il fatto che il van si è arrivato in Colombia da un certo punto di vista è una gran cosa però poi ci siamo accorti che è successo quello che è successo per fortuna adesso l'agenzia che ci ha aiutato a realizzare questa spedizione si incaricherà di tutte le spese che ci saranno per aggiustare il nostro van ho già sentito l'officina che si preoccuperà di fare tutti gli aggiustamenti possibili vi terremo aggiornati su quello che succederà nei prossimi giorni questo è sicuramente un grosso imprevisto però cercheremo di vederlo dal punto di vista positivo perché saremo più tempo qui a Cartagena cercheremo di vedere più cose staremo dietro i lavori adesso sto andando alla Dian che sarebbe l'agenzia delle entrate colombiana per ufficializzare lo sdoganamento del van ci vorrà ancora un giorno per poter ritirare il van come vi dicevo adesso vediamo che cosa ci dicono e ci vediamo dopo dopo ben 11 giorni di attesa e di pratiche burocratiche la spedizione e poi tutto quello che è successo al van oggi è il giorno in cui andrò a ritirare il van perché ieri abbiamo aperto il container e oggi abbiamo prenotato un appuntamento con l'agenzia delle entrate per sdoganare il nostro van che adesso è lì al porto di Cartagena vado subito a prenderlo eccomi sono arrivato al porto lì ci sono le gru non vedo l'ora di recuperarlo sto van certo che la burocrazia per questa frontiera che poi diciamo c'è una spedizione di mezzo è incredibile si può dire che è la frontiera più difficile burocraticamente parlando che abbiamo attraversato c'è una fila lunghissima di camion da attraversare my man ok mi sono cambiato anche questa volta e adesso entriamo nel porto del nostro amico Carlos che ci porta all'interno ed è l'ultima volta che entriamo nel porto questa volta e dobbiamo uscire da queste porte con il nostro van eccolo eccolo qua ciao bello allora è passato bene la notte però un po' caldo è tutto chiuso gli hanno messo questo adesivo scrivendo uno di tre case sto guardando se ci sono dei danni anche sul davanti ma non sembra che ci siano le griglie i fanali sono a posto quindi l'urto è avvenuto soltanto da dietro sulle pareti laterali tutto bene e purtroppo adesso andremo a sistemare questo bel danno per fortuna le modanature qui non si sono rovinate anche perché sarebbero state veramente difficili se non impossibili da trovare ora stiamo facendo gli ultimi controlli ho preso la chiave che è rimasta qui ed era bollente adesso cerchiamo di mettere in moto la moto del nostro amico Martin che ha la batteria a terra utilizzeremo la nostra per fortuna è riuscito ad accenderla e intanto noi abbiamo ricevuto il foglio rosa che ci autorizza ad uscire dal porto questa procedura si conclude quindi adesso chiudiamo qua e ce ne andiamo andiamo in carrozzeria adesso sarà il nostro primo step primi metri di guida colombiana sono ancora nel porto adesso dobbiamo andare alla bilancia con i documenti che ci hanno dato per poi finalmente uscire ed eccoci mettiamo in coda per entrare nella bilancia ecco qua siamo sulla bilancia adesso vediamo che sta digitando vediamo che sta digitando oh qui invalido si e vai si esce si esce che bello grazie vedo lascio la free zone ed entriamo adesso qui salita bienvenidos a colombia dopo dodici giorni da quando avevamo chiuso il container oggi abbiamo tra le mani il nostro van certo non è andato tutto per il meglio ma poteva andare molto peggio viaggiando cose del genere possono capitare ma ora testa le riparazioni per poi cominciare a viaggiare in sud America per poi Grazie a tutti.